Ciao a tutti ragazzi, dunque, bentornati a Godis, c'eravamo lasciati che dovevamo parlare con la Dea, che eravamo saliti a livello 49 e che dobbiamo spaccare il culo a un po' di gente, quindi vediamo di brigarci. Dunque, se non possiamo sconfiggere Raffaele, il suo spirito sarà costretto a vagare sempre nell'abisso scuro. Eh vabbè, capito, cazzo suolo, cosa vuole da me? Era un eroe umano così grande, non possiamo lasciarlo a una fine così brutale. Capito? E io che cavolo vuole da me? Va, e poni fine a ciò, guerriero, aiuta lo spirito di Raffaele a riposare in pace. Cioè, in sostanza dobbiamo andare a salvare il culo, raga, c'è niente da fare. Cioè, sto Raffaele senza di noi sarebbe perso. Però mi ha già rotto un po' il cazzo, eh. Sì, gli obiettivi posso farli un'altra volta, in sostanza voglio... Tanto li faccio man mano che faccio le battaglie e gli obiettivi, quindi che cazzo vuoi? Non è cagare la minchia, giochino. A me piuttosto farebbe la figura qua. Che fino adesso abbiamo vinto, eh. Giuro che se adesso perdiamo... Cioè, ti do. Dai, sudo. Ma il pipistrello non me lo è evocato? No. Ah, sì, io evoco tutto, ma chi se ne frega. Tanto sono lì apposta per essere evocati. Tranquilla, eh. No, te stai... Dietro, strega. E te? Finita strega, è andata in culo alla madonna. Ah, cattroia. Dai, fammi passare. Vai. Vai. Tanto lo so già che la mia aspetta al figlio di puttana. Lo so, lo so, me lo sento, me lo sento. Dai, vai. Su, don. Eh, ho detto io. Mi aspettavo al figlio di stroia qua. Truppa armata. Ma non dovevo sconfiggere Raffaele. Ma. Ma. Vabbè. In sostanza devo sconfiggerli prima che finisca il tempo. È da giù morto. Molto bene. Ok. Anghingo. Che sta sottofondo. Oh, le manette dell'aldilà. My goddess o 50 sfumature di grigio? Ok. Sì. Otteniamo l'appoggiamento. Parliamo con sta dea. Allora, Raffaele è avvolto nell'oscurità. Non abbiamo altra scelta se non quella risposta. Non avevo dubbi. Cioè. Ma pure io. Perché mi dico vado a combattere? Non avevo dubbi che ci faceva il culo. Nell'altare di Brina e tra le spaccature del tempo riposa in pace lo spadaccino Raffaele. Lo dici tu? Ma i demoli non volevano lasciare andare un nemico del genere. Così estrassero il suo spirito. Sai che lo spadaccino Raffaele appassiene passato ormai. Questo Raffaele oscuro è diventato un nemico degli umani. Dobbiamo sconfiggere e mettere il suo spirito a riposo. Ma dai. Non avevo dubbi. Io mi faccio anche volontaria proprio. Cioè. Mi offro di andare a morire. Così impunemente come una ciuccia. Vabbè. Ogni tanto si impappina il gioco. Dove è finito lo spirito? Ah, eccolo. Ah, cioè vengono giù a manetta mentre tu passi. Ehi. Vai. Tum, 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 tum. Eccolo, sapevo. Vale. Ti scommetto che non vado molto lontano. Perché secondo me non manca molto. Se non arriva già qua. Va, va. Mi convince poco, eh. Adesso ci arrivo, eh. Non so io che ci arrivo. E che mi da... Eh, madonna. Li abbiamo già ammazzati tutti. Ah, la famosa truppa armata di prima che abbiamo fatto fuori. Molto bene. Eccolo, lo so. Me lo sento. E' lì. E' là. Ecco, lo sapevo. Osto qua è grosso però, eh. Porca trotta. Blocca, uccidilo. Per completare il livello. Va bene. Ah, ti ho fermato. Oh, cazzo. Tu non mi puoi toccare. Ah. Ah. Muori, bastardo. Muori. Muori. Muori, bastardo. Muori. Non mi puoi toccare. Ti ho bloccato l'attacco. Ciù, palmeral. Ti hai visto che bella roba in te? Ma tanto sei quasi morto. Muori. Brutto stronzo. Schiaccia. Dovete... Eh. No. Mannaglia. Il tempo. Porca troia. Balsamata. Impara. L'abilità schivata boss. Contemporaneamente, mentre combatti, scegli. Va bene. Eh. Ma dai, che sfiga. Eh, quindi ce lo tocca. Giustamente. Sì, ma se tu... Io imparo anche. Ma se tu mi metti giù le armi quando cazzo vuoi tu... Eh, eh. Cioè, figlia mia. Non è che io posso... Non è che io. No, devo troppo basterlo Adesso c'ho proprio il pallino Figa And And No, dai, ti prego Dobbiamo troppo farlo fuori Questo stronzo Adesso ce l'ho in puntiglio Sì, voi direte Asia, stai fermo Perché sennò ci viene il mal di mare Logicamente Ci avete ragione pure voi Sì, ma sta merda non va giù Il tempo Muoviti Muoviti, muoviti Dai che è quasi morto Forse c'è la famo Oh, adeo, grazie Che culo ragazzi Stavolta ce l'abbiamo proprio fatta Sennò Se non l'uccidevamo Non ci facevamo neanche andare avanti Eh E' trazione, capirai C'erano due anelli Due già Siamo Asci Tu Asci L'ambaladan lì Non è che mi ispirava molto Però Ma Cosa vuole Oh, ci manca un livello Per vincere dieci livelli Di fila Ce ne manca Esattamente uno Perché ne abbiamo Nove di dieci Ecco Sapevo La guardia è lamentosa Dunque Quindi Dobbiamo Sicuramente andare Dove? Raffaele In ogni caso Lottò contro i demoni Fino alla fine Dei suoi giorni Quindi io Dove devo andare adesso? Sicuro Guardate Come loro Ci fa andare Dalla guardia Lamentosa Eccolo Il pontefice Minchia Vado Da papà Francesco Ah no Papà Francesco Non mi interessa Molto Delle nobiltà Sono solo Un avventuriero Eh Lei non ci vuole andare Dal pontefice Adesso Noi Preferiamo Che papà Francesco Venga da noi Non noi Da loro Da una grande potenza Deriva Una grande responsabilità Questo è il compito Comune Della nobiltà Ma se Siamo quasi arrivati A livello 50 Oltre Allora Dobbiamo andare Nella foresta Degli incubi Oh Finalmente Anche La Gilda Non vede l'ora Ma anche Asia Non vede l'ora Eh Che sennò Qua Mi fa tenire Mal di pancia Per di parlare Battaglia Si mi sento Scusate Ogni tanto Deliro Oddio Lucertolone Schifosi Ancora Un'altra volta Porca vacca Lupi Lupo malvagio Malvagio Ma questa Corre veloce Abbastanza Direi E stavolta Però Ci ha messo giù Tutto La strega Di Pistrello Senza Non male Ponte Per magia Si costruiscono Da solo Di qua Infatti Siamo in un gioco Non nella realtà Perché i ponti Nella realtà Cascano Non si costruiscono Ma il coglionazzo Ma il coglionazzo dietro Ci pensate voi Ad ammazzarle Adesso che ho imparato Adesso che ho imparato la modalità Blocca L'attacco Con il cazzo Che mi preghi Eh Infatti Abbiamo vinto Ah i cristalli magici Che bello Adesso lei ci darà Abbiamo vinto Dieci livelli Di seguito E di conseguenza Ci dà la ricompensa Ma no 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 Ma che cazzo Esci da qua Vabbè Anche per oggi è tutto Un saluto Da The Style Come sempre Commentate Condividete Spolliciate Tutto spiano Troverete i link Sotto i nostri video Spero che Vi piacciono Continuate a sostenerci Un abbraccio Ciao ciao Da The Style La? 2 Blum A impersonale La Los La 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 Isca La